Come seconda notizia, nel caso non lo conosceste, volevo segnalarvi un blog che mi è stato passato su Facebook pochi giorni fa e che si chiama Discount or Die, low cost is the low ed è un sito che si propone di recensire i prodotti che si trovano nei discount con dei voti da 1 a 5 e delle piccole recensioni molto ironiche che, anche se non foste interessati semplicemente ai prodotti, fanno ridere di per sé, quindi vi consiglio di leggerle Quindi, se siete degli studenti spiantati o semplicemente volete risparmiare sulla vostra spesa potete leggere questo blog, farvi un'idea di cosa può essere buono e cosa no perché tendenzialmente le cose nei discount funzionano così o sono buone o fanno schifo a tipo Dagon FFIFO, se dovreste passare, fategli sapere che vi ho mandato io